Andiamo a giocare a Final Fantasy, va Final Fantasy Però ma non ho cliccato niente Final Fantasy VII Rebirth Demo Cinque anni fa la compagnia elettrica Shirra inviò una squadra sul monte Nibel Per scoprire le caute del malfunzionamento Del reattore Mako Nella squadra ci sono due soldier, Sephiroth, il grande eroe E Cloud, è così che la storia inizia Vuoi una storia finora? C'è tanto da dire C'è muro e cazzo Capiglio, grazie dei 31 C'è lo che abbiamo ascoltato C'è lo che abbiamo ascoltato Questo planeto di noi Destinia Il nostro parte in questo La migliore storia che ho avuto inizio C'è la testa che mi scoppia Per oggi Midgar La città di Mako Ma sei da pazzo Di che pattine tu lo sei Di ansio Il nostro mondo è morto E così po' di ascoltare le sue crie per la miseria Ci mettiamo belli comodi Alfa G319 Alfa G319 Una fioraglia Ma questo è proprio tutto spoiler del primo Che Pecchino l'ha giocato Ricca Il popolo dei pionieri del pianeta Il popolo dei pionieri del pianeta Per salvare il pianeta Per salvare la squadra Il team Infiltratò il bioneta Il bioneta Il compagnolo del pianeta Il compagnolo del pianeta Il compagnolo del pianeta Il compagnolo del pianeta Ma come lo ricordavo Ma non era giocabile Gesù Grazie a te 66 Il compagnolo del pianeta Lui sai Lui sai la fine Vediamo Zax Penso di sì Cioè se non ci sfan cura troppo i coglioni Che si è da vuoi che si sfan cura tutto il gioco Bisogna Cioè se non ci sguardo I risparmi che si è andato dentro di lui Cloud ha portato il suo blado sull'arrivale a sondare la destina Sì, è un po' esagerato Sabaku, ci sa che hanno cambiato le robe Stiamo stavolto Stavamo davanti al non conosco Un mondo di libertà Un mondo di libertà E' stato lì Oltre a cui la vita potrebbe seguire Perfetto Spostamento standard Difficoltà standard C come controllare attacchi e spostamenti Attivo classica No, attiva E basta Tanto grazie di 69 Ah po' grazie di 60 Ma sta tipo laggando Però ma lagga Dicci come conosciuto sei Pirotta Dintorni di Nibelheim Cinque anni prima Cinema ragazzi Un po' di storytelling Un po' di Zubu storytelling Un po' di Zubu storytelling Il grande eroe a Nibelheim Una Dallas Una Un po' di Un po' di Un po' di Un po' di Sì, guarda. Vorrei che potessi aiutare, ma non ho mai stato morto. Scusate, ragazzi. Pronti per fare questo? Sì, sicuramente. Sono tutti a tutti, oh. Daddo, grazie di 54, capo. No, le flessioni, qua c'ho un piccolo trauma. Pazzo, sei responsabile della morte della figlia di Aldo Moro. Ragazzi, questi meme sul fascismo e di tutte queste stronzate che sono meme morti insieme alle persone morte da vent'anni, non fanno ridere. Non so se ve l'hanno spiegato. Non fa ridere nessuno. Io, Tassa, grazie dei 35. Hanno fatto ridere una volta. Il primo giorno. Non fanno più ridere. No, non fa... Hanno fatto ridere una volta. Nibohai? That's where I grew up. Got some fiends in our 12th! Entra il legger, hoppa da Turks. Ecco, questo fa ridere. Ecco, questo fa ridere. è un'altra volta. Ah, crowdale! Busca dai! GG! Ah, giochiamo proprio con Servinot. Eh, capisco dai! Disgorgon! Poco Brogan! Sì, ma è venuto un po' di ebole, infatti, con queste luci, eh, posso dirlo. Ultimamente soffro. Pure su Persona 3, quando fai il coso, l'assalto, e fa tipo una cosa di luce. Perché? Porco Dio, devo togliere gli occhi ogni volta. Mi dà fastidio. Siete che sto a fare che ho 30 anni, dico. Ormai mi minchiano su queste cose di luce. Bella questa inquadratura sulle sise. E poi era streammabile, in realtà, perché... Se poteva fare, era anche più veloce. Io mi ero fatto le prime due ore, che erano lentissime, era un po'... Però poi se velocizza un attimo, più che altro poi diventa... Ripetitivo. Ormai ci ho giocato otto ore nello stream, ma lo gioco per cazzi meno. Io non avevo casa, quindi non lo saprei. Eh... Hai ancora i bambini, però, certo? Una madre, chiamata Genova. Ha morto brevemente dopo che ero nascita. Il mio padre... Oh! Genova? Genova? Come da un edificio di Shinra? Un nuovo edificio! Sì. Non ti preoccupare. Siamo iniziando. Se la ride! Perché parlo di questo? Vieni, andiamo. Il tartaro è un po' ripetitivo, sì, sul personale è un po' ripetitivo. Oh, Zazzone! Oh, Zazzone! Se no, almeno spezzetti un po' di gameplay. Perché se no devi stare sempre a chiacchierare e basta per un mese è un tumore. Ok. Ok. Ma dove devo andare qua? Touchpad. Vediamo dal Broski. Ah, madonna! Hmm. Un soldato. E tu sei? Richard Zangan. Zangan! Un viaggio del mondo. E un professore delle arti marciale per le nuove. Hmm. Anche detto Malgax. C'è un mongone? Hmm. Guarda che braccette, la coglione! Hmm. Well toned, ma lacking mass. You need to bulk up. Who asked you? Ma che fa? You can learn a lot from me. Pass. No, no, no. I have many people here. I have many people here. That last count. 128. In fact, One of them is from this very village. Cat palesemente Tifa, ovviamente. Perhaps you know her. What? Tifa. Sure. Eh, sure. Dove la conosce. Ho già avuto due season. She'll go far. Hmm. Yeah, right. Yeah, right? Have you anything to say for yourself? I didn't know. Dove parlare con questo coglione? No, dovevo parlare con questa. Ah, hello there. Lucandiera? All my rooms are reserved for you, Shinra boy. So take your pick. You'll find them just a... Huh? No. Cloud? My, my. Get a load of you. And you'll have to live away a couple of years. Combo! Ma che fa? Tocca. Soldier, good to see you. Guarda un po' in giro. Che cazzo c'è? Bello! Guarda il paninazzo! Wait a minute. Is that Cloud? Silly boy! You should have let us know that you'd be paying us a visit. Oh, buono! Hai ricordato i sapori dell'infanzia. Poi sono passato a casa ma sorvoliamo. I know I want to hear what happened. Me too. Yeah. Go on. Eh, vabbè ma raccontiamo, raccontiamo. Casa di Cloud. My dad died when I was a kid. So after I left for Midgar. She was on her own. It was the first time we'd seen each other in two years. First time. And last. Hm? I'll be right there. Cloud. Is that you? Hey. Welcome home. Come in. Come in. A still? Come through your creator. Oh my! Come in. Come in. Come in. Come here, a post from the show. E' vero ma le cose che dicono Le cose che dicono in inglese Il sottotitolo qua è tutta un'altra roba Ma non ci avevo fatto caso Ma sefirot Sei solo un coglione capellone Cosa? Nel momento in cui siamo arrivati Sephiroth non era lui E cosa guarda? Questo posto Puzza di fregna Ma come se la ride il broski Lasci tu a pezzo del merda A pezzo del merda Non mi tocca di più Mi fai schifo Notte Come mi sembra A pezzo del gioco Stiamo guardando dei filmati da mezz'ora Quindi ne ho giocato tanto Abbiamo premuto due tasse Oggi mi sono arrivate le carte Che avevo comprato da Garmarket Mi sono arrivate parecchie carte Mancano tipo sei carte E abbiamo finito 151 Non mi sono arriva Cosa è stato A presto Cosa è stato Cosa è A presto Se sceglie Ora Cosa è Cosa è Cosa Cosa è Cosa è madre di tifa eccola eh si grande costume da cowgirl ragazze minorenne parecchio minorenne d'acqua foro posteri sir not today giunta molto lontana dalla maggiore età il brother non vuole fare le foto un'altra beh mo te sta allargata dai ringrazio che te ne ho fatta una ricordati il detto del saggio mollura da 6 a 66 tutte quelle che vorrei direttore creativo che sui anomura il grande senti che musichetta però e dimmi che non è il cazzo diamantato adesso dimmi che non è il cazzo di ridere il caverso everyone via da mantio ho detto nella mia vita in merito troppo di svegliarmi e trovare la tipa con il cosplay di tifa e ti fa buongiorno amore ti ho preparato la colazione e invece no mi sveglio e c'è il gatto tammy che si lava il culo porco dio dio merda e la postina che fa ho postato i pacchi è fatto ma so per me sì e quando muovi lì madonna troia madonna troia ii non sono ancora vicino a che si muovi non con tutti gli attività che ho avuto ho fatto ho fatto un destra il gatto tammy lo secco oggi lo secco il gatto tammy lo faccio fuori lo one shot oh una bestia vedi vedi la prossima volta che sono dicendo che la mazza da baseball ho visto quelli vicino al villaggio e non sono buoni cosa pensi? devo usare di suono penso che ho avuto questo allora sono tutti tuoi capito bravo mi è tutto gasato borra un variopode fuck let's finish this let's finish this let's finish this that was awesome you think? if this is how it's going to be it doesn't seem much point in me fighting I guess not you leave it all to me, huh? don't mind if I do ffff questo serie combattimento mi piace non è male non è male non è male ci sta chi dì grazie dei sedici questa roba è per sepidat è tipo formiche ma sarà tutto casato ma che fa? tocca ho il resto ma becca di una catena rapida una zubu catena me le sto prendendo tutte nel muso cos'è che ti prendi? un colpo audace impredicta così abbiamo ancora per un pezzo ma dopo vedo far sentire un host di persona 3 troppo bella e chi ci ha giocato è il boss del treno bellissima quella host sì a me piace il gameplay del set perché esatto è sia abbastanza action il giusto però è anche diciamo a turni quindi racchiude anche un po' di old school il ponte è distrutto e non si può procedere va bene cucciola qua roba final fantasy 10 peggio final fantasy eh ma il 15 proprio lo benissimo fammi cazzi mia delle zubu macchine certo è già giocato di job chair per lì c'è una una delle mie host preferite rubo grazie dei 36 zafrusto bro zafrusto ma ci sono i perry su sta roba ma blocca tutto zafrusto dici di bloccare i tirai ah beh certo perché se no questo è il cemento armato bello ah ma io non vavo rotter culo ok gas di mako gas di mako tutto tutto la sensore è bloccata il modo di rimuovere il gas mako ce lo porto a sto posto sopra bro aspira ha messo ne gaspira polvere wow grazie dei 13 un po' di aspirapolvere che folletto che folletto versante sud sotto la vetta piove piovigina boh a me a me i final fantasy mi piacciono sempre tranne un po' il 16 che era un po' troppo incentrato sull'MMO in alcune parti quindi diventava crisis score 20 euro è worth è worthissimo dogma tra i tuoi migliori 20 euro spesi dell'anno quindi a me era dispiaciuto era un po' una cagata però c'è stato va 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 il bro è pazzo soldati random o 7 uno l'ha grabato eh l'altro no ho settato il brother ah mi sa che è finito sotto sto fiume Gunter a bacino due ore dopo si no certo bione tranquillo grazie di 39 è un flashback certo che è un flashback cazzo vera tifa guarda c'ha prima tifa nerfatissima in azione seppiroth oh boggerts quando vedi degli appigli ti ci puoi scalare ah diventato assassin creed una materia viola ah le panchine per recuperare tutta la vita ovviamente tocca sbrigarsi che cose se morimo tanto te grafica ma che cazzo deve cambiare 100.000 volte più fluido zio vera tanto graficamente i filmati sono quelli beh oddio cloud pare diventato bob the deck ma che gli è successo sì ma se stiamo usando Mako per poterare nostre domenze spraverano come questo si scopriano certo? cosa stai dicendo? chi dicevi mio padre e il maestro se devi sapere ma che il planet è enorme Mako non si scopriano certo? naturalmente formato materia e guarda la dimensione è assolutamente Per l'energia di Mako di condizionare in qualcosa come questo, dovrebbe essere toccato un'eternità. Ho sempre chiesto, come la materia mi permette di uscire spalle? Come hai mai avuto un po' di potenza? Non ci credo. Per dire semplicemente, il sapere degli antichi è scegliato dentro ogni orb. E questo sapere non solo connessa con il planeto, ci permette di uscire in potenza. E' come potremmo usare magica, o così dicono. In realtà? In realtà? La magica sicuramente è strana. E lui se la ride? Io conosco qualcuno che sarebbe liberato di ascoltare la magica per l'attenzione. E' un ragazzo di 18. E' un affrontamento alla scienza. Chi? Hojo, dal risultato di Heliberg. Il grande Ojo. Ojo il pelato. Dobbiamo prescire. Heads up. Eh oh. Ah, il grande ala sonica. Oh che coglioni sto fregno. Ma ci ha spannata tutte e due. Ma sai te vecchi? Un bel forte dell'inferno e te ne vado a dormire. Aggiungere la magica. Un bel forte e due. Ma non ci ha spazzesco. Un bel forte. E' un bel forte. 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 Tremendo opportunamente mentre sei in guardia con R1 Unico delle elezioni sinergiche Ok Così ti pari Gli puoi fare delle zucurobe E lui che c'ha? Audacia assoluta Oddio che figlia Ma qui perché sarebbe da fare Tu devi fare colpa audace su questo Poi switchi E devi fare la porta dell'inferno E fai doppia spell Ti devi tipo girare le spell all'infinito Dovresti riuscire a questo Poi magie Crio Devi continuare a fare Entri e esci con i PG Bene che mi ha trovato una zucuro Banchina Tra l'altro si devono sbrigarmi a portare Ah ma questa pare se è boss fight Si devono sbrigarmi a farmi la carta di identità Zio Pera Che ho da ritirare I placement dei Payday 3 E dei Syncad Non so se vi ricordate Fatti st'estate Pagano il 7 febbraio Dai buono La mia è di 40 meri quadri Beh ho vissuto per 4 anni in una dei 28 Guardiano della materia No mi ha grabbato No mi ha grabbato Pire E questo gli devo togliere quel fregno mi so Eh si E qua tipo devi switch up Fai questo Col brother Fai di qua Fai questo Fai subito una lesione estremante R3 Ah per lockare Poi gli fai un bel criio Ma il pedo si è fatto grabbà Ma è una pittà Zio Pera Abilità Porte dell'inferno Abilità Colpo audace A metà che è lockato Modo Impuriamo poi gli danno Poi se ne va Vanno cadere Donk Poi gli fai subito una sborrata lesionante Dove se non sto zuku perry Il brother Ma che perry gli sto facendo al brother Non c'è sta a capi niente Oh Ma è pazzo Ti manca il fiato Non c'è sta a capi niente Non c'è Il brother si sta cazando di mago Zio Pera è impazzito Per affrontare il guardiano Facendo usare abilità sinergica Spirale incrociata Insieme a te Nel sezione del menu dei comandi Non c'è Non c'è il look Non c'è questo Stai alert Ma? Wow Now è insieme Bello C'è pera C'è pera Togli Ahia Perché non consuma mana? Ho posto di fallo? No Ah la pita poi Spero la sto trollando Abilità limite Ottacolpo Bello ottacolpo BAM 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 Ma posso rifare Sto fregno o no? Che tripazio Oh 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 Però è morto Oh cazzo Toie Che cazzo Ah si rialza Take it from here Umiliato Romeo Dice Ciampinazzo Arriva qui Con le moggi degli occhiali da sole Dopo le sue otto ore di try Buonissimo Un'ora coglione Un'ora coglione Buono dai Che fenomeno Un'ora coglione Cazzo E' un'ora coglione E' un'ora coglione E' un'ora coglione La non è fatta E' vero Perché i bambini piangevano Tipo dissi tu Che era troppo broken Scusate 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 Non ci sono civili Anche se non eravamo In una missione Come on Con lo spettro Un'ora Carry on No Un'ora Oggi E' tipo In totale Tre ore Ma sei una busta Posto Andiamo a vedere che succede va Andiamo a vedere che succede in questo zucuri attore Dai Sardo rifai il sub prima di scrivere queste stronzate Sono letteralmente il dio dei giochi Sì, mica come Viking Ace Tu tu Però non bello Eh capo c'è un paio di capsule aperte Mega grazie a te qua però C'è un altro che sono rano Solo faccio Hojo No, sei davvero qualcosa Cosa sono queste cose? Genova Genova Il mio amico tumore E il mio compagno di vita Cancro alle palle anche Facciamo una bella combriccola Ah no, pure io leggevo Genova da piccolo E facevo ma che cazzo c'entra Genova con sto gioco Es donk Insomma quanto c'è da roteare qua? Bro Bro Cioè abbiamo roteato tutto il gioco Bro Tutto a posto? What are you doing? Sefiro Mi go Grazie Venti Eh sì Mata grazie di quattro Bell'essere umano E via Bella capo My mother's name was Janoma Could it be That I was created the same way Am I the same as these monsters Ever since I was a child I knew I knew that I was different That I was special But not like this Not like this Cuk Am I even Human Eh non proprio Eventually we went back to the inn But when we got there Sephiroth locked himself in his room Lo spoiler GG E' per qui il gatto Tammy Smith è grazie dei trentotto Grazie ucciolo Se la dorme A panza all'aria Come se avesse lavorato Bididibodidibu Sephiroth Scompasso Verso la residenza Sheerra 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 Manor was the biggest building in town And older than the reactor The company used to conduct research there Back when they were still a small manufacturer Even so The rent on that plot was basically what kept the house Residenza Sheerra Questa roba Andava prendibile Una cosa prendibile Cercando Sephiroth Parano i meme dei Twitch Cacando nello sburo Qua è tutto chiuso Tutto locked Cacando è qua Però c'è questo ascensore pazzo Ma che fa il Tammy il gatto Si sveglia E si rigira E si rimette a dormire Che culo Che la vita tua Gatto Tammy La vita tua Non c'era che c'era un basso E' una notizia per me E' una notizia per me La vita tua La vita tua Zio vera Pagherei oro Per la vita tua E' segratato Ma miau miau E' dormi Falle sparite Ragazzi sai che gli frega Non sa manco che è Un altro gatto Excavato da un 2000-year-old rock lair Un'attività Stasis Profesor Ghast Named this life form Genova Ah bomba M.E.G.L. 77 1977 Genova Verified as an ancient M.E.G.L. 913 1977 Genova project Approved Marco Marco Grazie 34 E' una volta che Mi fa piacere fare il 34esimo mesi versarsi a uno che sta in uno dei bui e dei fustaggi di Talas Tranquillo fazzone prima o poi non uscirai e ti salveranno Ehi Sephra Che ti ho? E' una volta che ti ho salvare i quattressi il grande soldi Schippiamo il resto del messaggio Schippiamolo 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 il grande di t2 la sera di sette giorni dopo mette che si diciannove il brother c'è bello che è dato e invece sta ancora alla legge se la ride non 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 e quindi la chiamata Genova il progetto Genova è stato approcciato dopo un'initiative per risolvere le lunghe morti un'initiative che risulta nella mia concezione o invece, nella mia creazione la gloria di Professor Ghaz una meravigliosa esperienza eh, non l'ha presa bene Alex, cazzo di 57 oddio, ste cazzo delle luci ci sono altri professori, capo oggi è quello del presente che qui era già del passato, in realtà dovrei andare la madre sta aspettando un po' di 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 Steccato, il super uomo, via Non penso, però Eh, sì, sì, sì Il villaggio travolto Zugu stucca È tutto zoppigante Eh, mom Su, guarda come vorrebbe per la sua vita Quanto cazzo dura Brava, ma sta ancora lì Bellissimo quello dell'immagine Fatene uno con Gorillone 93 Prende il cazzo a te che ne piange Non si passa No, che tocca di girare la rotella Brava, quando cazzo devo andare Con questo che non c'è, spiega Sto da dove è uscito E poi rimane lì Brava, non puoi uscire Sei finito Come stai? Questa cosa che zoppiga così Ha un FPS È un po' storta, eh Questa è un'altra mezza animazione Bruttarella questa Ed ha covacciato Cammina preciso Ah, poi rotola È una mossa pazzissima Va una all'ora Gli cade qualcosa in testa Diventa boom Lizard Oh Dio Oh Dio E mi sa che non era quello di prima La foglia di Sephiroth La foglia di Sephiroth No, regà Non, no No, ragazzi No No Non è una mossa Che vi conviene fare Sì, ma spruzzagli Almeno un corpo Spruzzaglielo Tanto Morto Per morto Che do sceglie Ah, no Dov'anziani Che do sceglie Stupi 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 Questa scena è astro Iconica Con lui Estupi Stupi 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 Oh no ma il video di ieri Ma vaffanculo il video di ieri Porco Dio Ma hanno avvitato Beh Red, come si guarda? Huh? Wow 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 Ha bisogno di scendere qualche materiale gigantesca Woohoo Wow 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 Don't misunderstand. You'll need a way home. So if you're ready, I'll be here. Wifi. I have a history with him. With all this goddamn blood on my hands. How could I ever hold my daughter again? Those we hate. Those we love. Ecco questo è il massimo dei sangue che c'è su Final Fantasy ma non lo mettono mai il sangue L'hanno messo sul 16 Ma ho fatto di far salvarsi da sto bordello Beh un sacco di gente si è salvata Bastava che uscivi Persona con folta barba e che indossa una canotta bianca perde miseramente ad un gioco picchiaduro piangendo Oh goddio